Buon pomeriggio, buongiorno, buonasera a tutti. La mia presentazione riguarda in modo particolare la sezione dedicata alla grammatica nel sistema in alto, quindi costruisci le fondamenta, strategie e risorse per la grammatica. Come abbiamo sempre fatto anche con le colleghe del sistema in alto, ci piace condividere con gli studenti in modo particolare nei livelli più alti, quindi nel livello B1 e nel livello B2, delle citazioni, delle frasi dalle quali partire per poi fare una serie di commenti e di considerazioni, di osservazioni con i nostri studenti. Io oggi ho preferito iniziare la presentazione con questa frase di Kafka, I sentieri si costruiscono viaggiando, perché il sistema in alto è un viaggio, è un viaggio che lo studente inizia dal livello più basso, inizia dal livello principiante, è un viaggio appunto che continua nel livello elementare, pre-intermedio, intermedio e poi anche avanzato. È un viaggio lungo, certamente, è un viaggio che prevede dei momenti abbastanza scorrevoli, ma anche dei momenti un po' tortuosi e questo soprattutto dal punto di vista lessicale, dal punto di vista grammaticale e quindi da tutto ciò che riguarda anche poi la comunicazione e la produzione in generale, sia essa scritta che orale. I binari di un treno? Beh, i binari di un treno sono lunghissimi, quindi hanno un inizio ma a volte non hanno una fine ed è così che noi intendiamo e abbiamo inteso appunto il sistema in alto. Quali sono i contenuti in modo particolare di questa presentazione? Beh, certamente come la collega Simona anche io mi ricollego appunto all'approccio che noi abbiamo utilizzato nei volumi del sistema in alto, alle fondamenta, le strategie, le risorse, le combinazioni possibili e poi una serie di conclusioni per continuare a rendere sempre più attivo e sempre più interessante le risorse alle quali noi facciamo riferimento. Allora, anche per quanto riguarda la grammatica, la grammatica ha un approccio assolutamente comunicativo perché è vero che a volte la grammatica spaventa gli studenti, ma a volte la grammatica spaventa anche l'insegnante perché teme, l'insegnante appunto teme di non riuscire a trasmettere gli elementi grammaticali nel miglior modo e la paura che lo studente a volte prova nell'affrontare la grammatica è quella appunto di non essere in grado di riuscire a mettere in pratica nella produzione orale, quindi soprattutto nella comunicazione e nell'interazione e per questo motivo abbiamo optato per tutti i volumi del sistema in alto un approccio comunicativo anche nella grammatica, quindi un approccio comunicativo che ci ha portato a organizzare la grammatica ovviamente in modo induttivo e soprattutto in modo esplorativo, quindi per noi l'esplorazione grammaticale implicitamente inizia già dalle prime attività, quindi inizia già dalle parole che abbiamo scelto da inserire per esempio all'interno delle nuvole di parole, all'interno delle sezioni precedenti alla sezione dedicata alla struttura grammaticale. Certamente è un approccio anche funzionale perché è una presentazione della grammatica non attraverso una regola, alla regola ci si arriva, come ci dice la didattica induttiva, come ci dice la didattica comunicativa, è un approccio che inizia appunto con la parola sapere o saper. Noi abbiamo inteso appunto la grammatica come un insieme di mattoncini, qui vedete ho scelto l'immagine dei mattoncini della Lego, una prima immagine dove questi mattoncini sono messi così in modo disordinato e poi vedete una seconda immagine dove più persone, che quindi sono i nostri studenti, iniziano a costruire qualcosa fino ad arrivare ad un prodotto finale, ad una costruzione finale che in questo caso sembrerebbe quasi una casa. Quindi una parola che mi è piaciuta molto in questi giorni è stato proprio immaginare la lingua come una casa, quindi una seconda lingua come una seconda casa e quindi come una casa appunto da abitare. Quindi la frase abitare una lingua è quello che appunto noi vogliamo trasmettere allo studente, perché abitare una lingua significa avere fiducia nelle parole che abbiamo imparato durante durante il percorso, durante i vari livelli che abbiamo affrontato e diventa anche un momento di incoraggiamento e un momento anche di riprovare a rimettersi in gioco continuando il percorso e avanzando sempre di più. Dall'approccio ci colleghiamo poi alle fondamenta, ovviamente la costruzione di una casa o comunque la costruzione di qualcosa che si sviluppa verso l'alto ma anche in modo trasversale parte dalle fondamenta. Le fondamenta della grammatica rappresentano qualcosa che si rigollega indissolubilmente anche con il lessico, anche con le espressioni e ovviamente pian piano che si passa dal livello A1 al livello A2, poi al B1 al B2 e poi quando si arriverà anche al livello C1, ovviamente si aggiungono sempre di più degli elementi uno sopra l'altro che devono avere un equilibrio e allora questo equilibrio viene dato dal imparare a mettere insieme le parole e le espressioni che sono state acquisite acquisite e imparate appunto nelle sezioni precedenti, quindi nella prima parte dell'unità, nella seconda parte e nella terza parte dell'unità, perché essendo la grammatica presentata con un approccio comunicativo e con un approccio induttivo, ovviamente si ritroverà più o meno a metà diciamo dell'unità didattica alla fine di tutta la parte di cui ha parlato appunto la collega nella prima presentazione. Quindi gli elementi vengono messi uno sopra l'altro ed è questa la struttura che ritroveremo in tutti e quattro i volumi appunto della collana in alto. La parte dedicata alla grammatica ha come titolo proprio le strutture della lingua, le strutture della lingua quindi la parola struttura appunto ci riporta anche a quello che è il nostro sistema di organizzazione dei volumi e ci riporta quindi a qualcosa di costruito, quindi a qualcosa di costruito ma anche a qualcosa di permanente, quindi le fondamenta se sono delle fondamenta solide, se sono delle fondamenta forti, consapevoli e soprattutto appunto se sono consapevoli vuol dire che hanno lavorato anche molto sulla autonomia, allora rappresentano qualcosa di permanente, qualcosa di duraturo che è quello che diciamo ogni insegnante si augura di trasmettere ai propri studenti. Nella sezione appunto della struttura della lingua lo studente impara proprio ad analizzare, impara e continua ad applicare il modo di affrontare la grammatica man mano che si va avanti appunto nelle unità didattiche presentate nei quattro volumi. Ed è questo aspetto che cresce della grammatica parte da una base, la base ovviamente è il sapere, quello che noi intendiamo come una conoscenza, come una conoscenza accademica, un punto di partenza da parte dello studente, quel punto di partenza che viene sempre constatato, che viene scoperto anche dall'insegnante nei primi momenti della lezione, quando si iniziano a fare delle attività per elicitare, delle attività per stimolare lo studente e per verificare ma qual è la conoscenza riguardo all'argomento che tratteremo dello studente. Quindi la base è il sapere, un sapere che è formato appunto dalle conoscenze dichiarative, però non ci basta, questo sapere non è abbastanza, allora l'insegnante deve cercare di andare a sviluppare le altre forme del sapere, il saper fare, il saper essere e il saper apprendere. Questi sono gli obiettivi che ci siamo prefissati durante i nostri incontri per la realizzazione delle unità e che ovviamente abbiamo rafforzato e abbiamo potenziato nei livelli più alti, quindi nel livello B1 e ancora di più nel livello B2. Durante la presentazione della collega Simona, la prima domanda che lei ha fatto a tutti voi, e cioè come consideriamo oggi la didattica L2 LS, come la viviamo? Appunto la didattica, voi avete giustamente utilizzato parole come curiosità, come equilibrio, interazione, autonomia e libera, qualcuno di voi ha usato l'aggettivo libera. Anche la grammatica che rientra ovviamente nella didattica della lingua L2, della lingua LS, deve essere vissuta così, prima di tutto dall'insegnante e poi ovviamente anche dallo studente. Quindi questo impatto che dobbiamo presentare, che lo studente deve avere con la grammatica, deve essere un impatto sereno, deve essere un impatto libero e soprattutto autonomo. Quindi quando lo studente riesce a raggiungere questo grado di autonomia anche nello studio della grammatica e poi nella riutilizzazione appunto della grammatica, vuol dire che abbiamo ampliato il concetto appunto di sapere nella nostra classe e nel nostro studente. Quindi vuol dire che abbiamo raggiunto in modo particolare il saper apprendere, quindi abbiamo contribuito a dare allo studente uno strumento per riuscire a cattare, per riuscire a catturare in una frase, in un'immagine, in un testo, visto che il testo per noi rappresenta una componente essenziale all'interno delle unità, quindi lo studente è riuscito a cattare proprio l'elemento grammaticale e come soprattutto affrontarlo, come osservarlo, come riutilizzarlo e come farlo diventare proprio. È che il passaggio ovviamente è lo step più difficile, a volte soprattutto se stiamo trattando degli argomenti un po' complessi, un po' ostici della nostra morfosintassi e quindi immaginiamo gli elementi morfosintattici di un livello B, quindi di un livello B1 e di un livello B2, però ovviamente le fondamenta partono dal livello A1 e qui abbiamo appunto una sezione dedicata alle… ho messo qui appunto un'immagine tratta dal libro in alto A1, quindi così si presenta la parte dedicata alla grammatica, le strutture della lingua che quindi arriva in un terzo momento, quindi arriva dopo la parte dedicata all'analisi lessicale, arriva dopo alla parte dedicata alle espressioni da utilizzare in determinate situazioni e quindi è come se appunto si arrivi pian piano a rimettere insieme tutti questi pezzi di puzzle o appunto questi mattoncini che sono stati raccolti e messi insieme durante le varie fasi appunto della della lezione e quindi che cosa ha fatto l'insegnante e quindi che cosa abbiamo fatto noi all'interno delle unità? Abbiamo cercato di utilizzare delle strategie perché le strategie sono degli elementi che implicitamente e quasi quindi appunto non dichiaratamente aiutano lo studente a sentirsi a suo agio nelle pagine delle pagine dell'unità perché quando lo studente si sente sereno durante lo studio, durante appunto le attività presentate dall'unità didattica vuol dire che sta anche inconsapevolmente, sta incamerando delle conoscenze, sta incamerando dei momenti di apprendimento di una parola, di una struttura e quindi queste strategie le mette, le utilizziamo attraverso gli indizi. Quindi immaginiamo un po' uno lo studente. Quindi lo studente deve cercare nelle attività precedenti, nel dialogo che viene presentato nelle nuvole di parole, lo studente deve identificare proprio gli indizi e attraverso poi una serie di tecniche in modo particolare tecniche di natura insiemistica, scelta binaria, esclusione, inclusione e il classico schema vuoto o semiguoto, gli indizi prendono il loro posto. Quindi gli indizi appunto vengono identificati, vengono analizzati e vengono combinati insieme. Infatti se vedete per esempio in questa pagina tratta dal libro in alto a uno, qui abbiamo il presente il regolare del verbo andare, ma viene riportato qui sulla destra una parte del dialogo che è stato letto, è stato ascoltato nella prima parte dell'unità e qui lo studente va a cercare gli indizi. Gli indizi ovviamente in un livello beginner, in un livello appunto a uno, sono evidenziati per portare con mano lo studente verso una compilazione appunto di uno schema, di una di una tabella che è semiguoto per poi passare ad un secondo momento di osservazione della tabella e poi di completamento appunto di frasi con il presente indicativo irregolare del verbo andare. Diciamo che è un'altra tecnica che abbiamo scelto per i livelli un po' più alti, è la tecnica del close all'interno della struttura della lingua, perché il close è un testo, quindi non sono delle frasi da completare, delle frasi che non hanno un legame logico tra di loro. Il close è un testo e allora lì c'è anche la componente di comprensione anche della coesione e della coerenza del testo e quindi si presta molto bene per i livelli più alti per rafforzare, per potenziare la struttura grammaticale. Ho messo qui anche un esempio di quello che intendiamo per raccogliere gli indizi, metterli insieme e andarli a predisporre in una tabella, come per esempio nel libro in alto livello A2, abbiamo qui il pronomi soggetto e quindi pronomi tonici, pronomi diretti e quindi osserva e completa, c'è sempre il momento di osservare. Ma che cosa osservo? Osservo delle frasi che sono state riportate, sono state estratte dalle sezioni precedenti, quindi dalla sezione dedicata al dialogo, quindi all'ascolto del dialogo, alla comprensione del dialogo, la sezione dedicata alle parole e la sezione dedicata alle espressioni idiomatiche, alle espressioni utilizzate per mostrare alcuni aspetti della lingua. E ancora andando avanti vediamo che la struttura, la sezione dedicata alla struttura della lingua, quindi alla grammatica, diventa un po' più complessa perché ci avviciniamo a livelli più alti, quindi lo studente sta diventando più autonomo, lo studente che si trova in un livello B1 vuol dire che ha con sé un bagaglio importante, ha con sé un bagaglio che è formato da ciò che si porta dal livello A1, da ciò che si porta dal livello A2, quindi la valigia è pesante in senso positivo. E allora perché non creare delle attività e delle situazioni, tra virgolette, all'interno anche della struttura della lingua un po' più complesse, ma allo stesso modo più curiose. Qualcuno di voi prima ha indicato, ritornando all'idea di didattica oggi, ha scritto la parola curiosità e anche in grammatica dobbiamo stimolare, dobbiamo stimolare la curiosità, lo studente deve chiedersi perché, ma perché è curioso di sapere che cosa succede a quella frase, che cosa succede a quel verbo, che cosa succede a quella espressione e quindi lo facciamo ovviamente in modo più dettagliato nel livello B1 e lo abbiamo fatto ancora in modo più dettagliato anche nel livello B2. Diciamo che aumenta la difficoltà degli indizi per dare più libertà allo studente di combinare insieme gli indizi per poi arrivare alla creazione, alla conferma della regola e poi al suo riutilizzo. e qui infatti per esempio abbiamo attività appunto di scelta, di scelta binaria sempre all'interno della sezione dedicata alla grammatica dove lo studente è lo studente che sceglie, no? E questo è un altro verbo che a noi piace molto nel sistema in alto cioè la scelta, la libertà appunto di scegliere per riprovare e per provare e per provare, provare e riprovare fin quando non si arriva appunto ad identificare la regola finale. La creatività ci porta ad immaginare, no? Quindi abbiamo immaginato anche noi delle attività grammaticali da creare appunto da parte dello studente per invogliare maggiormente ad avere con la grammatica un rapporto più sereno, no? Un rapporto che mette appunto lo studente a proprio agio anche in situazioni grammaticali più complesse come quelle per esempio del livello B2. Ancora di più, quindi aumenta il livello di difficoltà degli indizi soprattutto nel livello B2, quindi questo è un estratto, è l'estratto dell'unità numero 1 che potete andare a curiosare sul sul sito della casa editrice Ornimi e vedrete che appunto la parte dedicata alla struttura della lingua presenta maggiori attività rispetto ai ai volumi precedenti. Ovviamente perché lo studente adesso è più grande, no? tra virgolette da un punto di vista linguistico, è più maturo, no? Certamente e ha più cognizione di quello che sta che sta realizzando. Sente di più, sente ancora di più l'esigenza di scoprire e l'esigenza di evidenziare, di cerchiare, di analizzare. Quindi abbiamo cercato di rispondere in queste pagine a questo aumento di creatività, di libertà da parte dello studente per affrontare anche argomenti come, non so, la forma passiva, il discorso diretto e indiretto con diversi verbi, non so, come chiedere e domandare. Quindi abbiamo cercato di far mettere ancora più in gioco lo studente con delle attività creative anche se grammaticali, anche se morfosintattiche. Le risorse quindi dove sono? Sono in tutta l'unità, quindi lo studente non si sente perso tra virgolette quando arriva alla parte dell'unità dedicata alla grammatica. Sa che ritrova tutto quello che gli viene chiesto di scoprire e di esplorare nella sezione grammaticale, sa che le ritrova e le può andare a cercare nelle pagine precedenti. Quindi per noi l'unità nelle pagine precedenti o anche nell'unità precedente, quindi se non ricorda qualcosa sa che può tornare indietro, perché è tutto un sistema di evoluzione, un sistema in evoluzione quello delle unità. Ecco perché abbiamo inteso l'unità come un sentiero, quindi mi ricollego alla citazione di Kafka. L'unità è un percorso che è fatto di indizi, di indizi che lo studente pian piano mette da parte, è un percorso fatto di tentativi. Lo studente non deve aver paura di fare tentativi. Ecco perché viene stimolato dall'insegnante a fare delle prove, a autocorreggersi, a verificare se le prove che fa da un punto di vista grammaticale siano appunto corrette. È un percorso certamente in salita e questa salita ci porta poi dall'altra parte della montagna, se ripensiamo all'immagine utilizzata da Simona nella presentazione precedente. Le risorse che noi abbiamo dato allo studente all'interno dell'unità sono, certamente ci sono le risorse esplicite che sono le attività, le nuvole di parole, le frasi da completare, le espressioni da riutilizzare nella produzione orale, ma presentiamo anche delle risorse implicite all'interno dell'unità. Cioè volutamente in alcuni testi, in alcune pagine e anche in alcune parti della sezione dedicata alla grammatica, abbiamo in un certo senso dato delle lampadine, tra virgolette, degli input all'insegnante ma anche allo studente da eventualmente approfondire. Questo perché appunto abbiamo inteso l'unità come qualcosa che non ha un confine. Cioè l'unità uno, l'unità due deve avere un orizzonte, cioè ci deve portare a pensare anche ad altro. Quindi ci deve tenere intrappolati e non deve tenere intrappolato lo studente all'interno solo di quell'unità, di quegli argomenti. E questo perché il nostro obiettivo è quello di rendere lo studente autonomo e quindi lo studente diventa autonomo quando sa che può spaziare all'interno dell'unità e quando soprattutto sa che può mettere in pratica, quindi spaziare significa anche mettere in pratica al di fuori della lezione, quindi portarsi tutti questi indizi, portarsi tutti questi elementi, questi mattoncini, questi pezzi di puzzle, portarseli anche al di fuori della classe. E quindi lo studente diventa il nostro, il nostro Sherlock Holmes. E l'attività, qualcuno di voi prima ha utilizzato molti di voi la parola appunto di interazione, di collaborazione, di interconnessione tra persone. È vero, la classe è un ambiente, un ambiente è un luogo di interazione, un luogo di collaborazione, allora quello che sa uno studente viene condiviso con le conoscenze dell'altro studente e quindi è la stessa cosa che succede anche nella parte dedicata alla grammatica, dove chiediamo spesso di lavorare insieme per provare insieme per provare a mettere insieme gli elementi di questo puzzle e arrivare ad una conclusione. Quindi alla fine questi pezzi di puzzle diventano gli indizi che si trasformano poi in un collage completo che viene con coraggio portato poi dallo studente al di fuori della classe. E quindi immaginando appunto, sempre pensando appunto alla grammatica, se la immaginiamo come un puzzle, sappiamo anche molto bene che non tutti i pezzi del puzzle li possiamo interscambiare come vogliamo, ma i puzzle vanno appunto in un determinato modo, quindi la combinazione deve essere giusta. Ed è quello che fa appunto lo studente con la grammatica. Per esempio ho riportato qui una sezione tratta dal libro in alto B1, il condizionale composto e come vedete qui abbiamo questi elementi che lo studente deve andare a scoprire e deve mettere insieme, li deve andare a ricercare nelle attività precedenti per poi riutilizzarli all'interno di frasi da riscrivere. Dopodiché continua e si continua a chiedere allo studente di torna ancora, come qui potete leggere, scusate se l'immagine è un po' piccolina, nell'attività numero due c'è scritto appunto torna ancora al dialogo, quindi in questo modo lo studente sa che non è tra virgolette da solo, quindi non è da solo con il condizionale posto in questo caso, ma sa che deve ritornare nelle parti precedenti per andare a riprendere evidentemente qualche indizio, qualche informazione che potrebbe essergli sfuggito oppure che serve per andare a completare appunto la regola grammaticale, la struttura e il riutilizzo di ciò che ha imparato. Dopodiché ovviamente si arriva al momento conclusivo che è della fase delle strutture appunto della lingua, che è la regola, quindi ci arriviamo alla fine alla regola, però non è l'arrivo nel senso che alla fine è un punto di ripartenza, perché si ricomincia a riutilizzare appunto la regola confermata e si deve subito mettere in pratica e ovviamente questo risulta un po' più consapevole, un po' più semplice in un livello B1 e ancora di più in un livello B2. Quindi vedete qui per esempio nell'attività numero due c'è un racconto di una brutta giornata da completare con la forma impersonale che è stata studiata in precedenza e poi bisogna poi raccontare una nostra, una pessima giornata, una brutta giornata vissuta cercando di riutilizzare la regola imparata. Quindi la grammatica non è soltanto scritta, la grammatica è anche orale, perché a noi interessa la comunicazione, quindi a noi interessa che lo studente attraverso una regola appunto grammaticale scoperta, costruita e messa insieme nel corso appunto delle pagine dell'unità riesca poi a metterla in pratica parlando, quindi interagendo con altre persone, quindi portandola al di fuori appunto della classe e quindi imparando ad andare al di là dello schema grammaticale, quindi di quei confini che possiamo trovare appunto non so in quando 20 o 30 anni fa si insegnava appunto una lingua, oggi invece lo studente impara in questo modo ad andare al di là, al di là dello schema. Andare al di là quindi ci porta alla libertà, quindi l'unità deve essere vissuta prima di tutto dall'insegnante come la possibilità di spaziare, come la possibilità di fare dei collegamenti, anche trattando argomenti grammaticali, questioni grammaticali. E da parte dello studente l'unità deve essere vissuta anche lì come libertà. Quindi io imparo questa cosa all'interno dell'unità, imparo questa costruzione morfosintattica e poi la provo. La provo prima in classe perché alla fine della struttura grammaticale c'è sempre un'attività in cui lo studente riutilizza non solo a livello scritto ma anche a livello orale ciò che ha imparato e questo soprattutto nei livelli più alti e poi impara appunto a portare fuori e quindi ad uscire dai confini e dai limiti del libro e a portare a vivere la realtà della lingua. E quindi per noi il sistema in alto è un andare oltre, andare oltre e fare dei collegamenti di vissuto tra l'elemento grammaticale e anche la realtà. Quindi all'interno delle attività proposte, soprattutto nei livelli più alti, le frasi, i close, le attività di inclusione ed esclusione hanno uno strettissimo collegamento con la realtà e con la realtà portata all'interno delle unità. Come per esempio, questa è un'altra parte ripresa sempre dalle strutture della lingua del volume in uscita nei prossimi mesi che trovate sul sito della casa editrice, come vedete qui abbiamo un'attività dove si parla della forma passiva, nell'attività numero uno è stata osservata una tabella e dopodiché appunto bisogna mettere in pratica la forma passiva ma c'è un collegamento con la realtà perché appunto se andate a vedere di cosa parla l'unità vi renderete conto che queste frasi da completare a livello grammaticale in realtà hanno tutto, hanno il lessico, hanno le espressioni da utilizzare, espressioni idiomatiche, hanno ovviamente anche cultura. Quindi la grammatica si ricollega, non è un elemento a sé stante, ma si ricollega con tutto ciò che riguarda una lingua e quindi anche con l'aspetto culturale. Questo perché ciò ci porta a raggiungere quel grande obiettivo che vogliamo sempre far raggiungere ai nostri studenti e cioè quell'autonomia che permette loro di parlare in lingua italiana in qualsiasi situazione con persone italiane di qualsiasi argomento cercando di ricordare quello che appunto loro hanno imparato durante le unità. Una combinazione interessante, stimolante, più attiva è anche la sezione dedicata alla videogrammatica che potete trovare per tutti, per i volumi appunto della collana in alto e che quindi anche poi ci sarà anche per il volume B2 ed è interessante perché la parte dedicata alla videogrammatica presenta dei video animati dove vengono sistematizzate le strutture grammaticali, quindi è un po' una grammatica in movimento ed è lo stesso movimento che l'insegnante ha cercato di proporre in classe attraverso le attività ed è quindi appunto una struttura animata che porta lo studente al raggiungimento anche di uno di quei quattro saperi di cui abbiamo parlato all'inizio che è il saper essere, cioè lo sviluppo del sé, la voglia di scoprire qualcosa di sconosciuto, la voglia dell'alterità, quindi di ciò che è diverso da quello che già sappiamo e di sentire anche le emozioni che si provano quando appunto si sta imparando qualcosa di nuovo. Con questo mi avvio alle conclusioni e fondamentalmente possiamo riassumerle in tre punti. Numero uno, la leggerezza non è superficialità ed è così, la grammatica non deve essere vissuta prima di tutto dall'insegnante e poi dallo studente come qualcosa di pesante, no? Quante volte gli studenti ci dicono, ma questa parte è difficile, io non ci riesco, è molto diversa, questa parte grammaticale è molto diversa dalla mia lingua. Allora dobbiamo trovare il modo di presentare anche le cose più complesse, inevitabilmente complesse, ma nel modo più leggero possibile, ma profondo allo stesso tempo. La seconda conclusione è che l'unità per noi è un, l'insegnante si rispecchia nell'unità e l'unità diventa poi un, di riflesso, si rimanda tutta, appunto di riflesso si rimanda poi tutto allo studente. Quindi se appunto l'insegnante trasmette con stimolo, con curiosità, con esplorazione, no? Con esplorazione e poi con scoperta elementi grammaticali, lo studente si sente parte di questo viaggio, si sente di essere parte di questa esplorazione e ricorda un po' di più le cose che ha imparato. L'ultima conclusione è che per noi la grammatica induttiva è una grammatica appunto comunicativa, perché in questo modo lo studente riesce a ricordare maggiormente ciò che ha imparato. E con questo si conclude la mia presentazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.